Eccoci, buongiorno, bentornati a Coffee Break. Allora, abbiamo la manovra con tutte le prudenze del caso, perché dopo una riunione fiume è durata quasi sei ore, il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera a salvo intese sia alla legge di bilancio che al decreto fiscale. Che cosa vuol dire? Vuol dire che il Governo si riserva di intervenire ancora su tutta la materia e poi comincia l'iter parlamentare e appunto deputati e senatori potranno a loro volta emendare le misure. Insomma, vedremo cosa sappiamo. Sappiamo fondamentalmente, come ha detto il Premier Conte, che è stato scongiurato l'aumento dell'IVA, vale circa 23 miliardi. Conte anche ha detto è una manovra espansiva. Di fatto ci saranno misure di inasprimento per fronteggiare l'evasione fiscale, ci saranno dei bonus per incentivare l'uso della moneta cosiddetta elettronica, ci sono 3 miliardi riguardo le tasse sul lavoro che dovrebbero andare appunto nelle tasche dei lavoratori. Insomma, ci sono tutta una serie di misure che ovviamente adesso vi illustreremo per grandi linee perché in questo momento stanno continuando a uscire i dettagli di quello che è stato deciso nel Consiglio dei Ministri. Un Consiglio dei Ministri, peraltro, che ha vissuto anche qualche momento di tensione tra le forze della maggioranza. Vediamo. Il documento di programmazione economica, varato poche ore fa dal governo, vale 30 miliardi, di cui 23 per evitare l'aumento dell'IVA, mentre 3 miliardi andranno per rendere i salari più corposi, incidendo sul cuneo fiscale una riunione fiume dei toni accesi che ha approvato non solo il documento programmatico di bilancio da inviare all'Unione Europea, ma anche, salvo intese, il testo della manovra e il decreto fiscale che ora approderanno in Parlamento, il governo prevede di ottenere ben 7 miliardi dalla lotta all'evasione con incentivi per chi utilizza la moneta elettronica e sanzioni. Per coloro che non la accettano, prende il via anche la lotteria degli scontrini, mentre sempre per fare cassa sono previsti aumenti delle rendite per il gioco, ritocchi a rialzo sul prezzo dei tabacchi e altre entrate sono previste sulle bibite gassate, sugli imballaggi di plastica. Il tetto all'uso del contante calerà gradualmente da 3.000 a 2.000 euro nel 2020 e 21, per poi scendere a 1.000 euro negli anni successivi, una misura frutto di mediazione che ha visto accendersi i toni tra PD e Italia Viva che ha minacciato di non votare la misura. Saranno premiati invece con un super bonus che verrà pagato nel 2021, chi fa spese specifiche utilizzando la carta di credito. Arriva poi il bonus facciate, cioè una detrazione per la ristrutturazione degli esterni degli edifici e sono confermati gli sgrati fiscali per le ristrutturazioni edilizie, mentre non verrà toccata quota 100, al contrario di quanto chiedevano i renziani, confermata invece a pre sociale opzione donna. Stop dal 1 settembre dell'anno prossimo al super ticket sanitario, mentre per la famiglia in arrivo 600 milioni ulteriori spalmati in una serie di misure, come annunciato il ministro Gualtieri, tra cui la gratuità degli asili nido per i redditi più bassi e l'impegno a costruirne di nuovi. Per ora niente carcere per gli evasori, ma solo l'inasprimento delle pene e la questione, oggetto di scontro tra PD e Movimento 5 Stelle, sarà oggetto di un emendamento al decreto fiscale che sarà presentato in seguito. Qualche dettaglio in più, perché molti di chi ci segue ha tutto l'interesse a conoscere qualche dettaglio. Intanto c'è un capitolo molto importante che riguarda la lotta all'evasione. Il governo conta di recuperare almeno 7 miliardi, che è una soglia molto ambiziosa. Poco fa ha parlato il viceministro all'economia Misiani e ha detto che dall'evasione fiscale si recuperano più o meno 4 miliardi da misure legate direttamente alla lotta all'evasione, più circa 3 miliardi che derivano dall'abolizione degli studi di settore e dall'introduzione degli indici ISA, che hanno fatto emergere un gettito superiore alle previsioni, indici che sono, ne abbiamo parlato nei giorni scorsi, contestati fortemente dai commercialisti. E poi a proposito del cuneo fiscale, Misiani ha detto che se la platea, che è ancora da verificare, fosse quella degli 80 euro, questo vuol dire 500 euro in più netti all'anno per questi lavoratori. Ha detto anche un'altra cosa Misiani, non ci sarà la tassa sulle merendine, mentre ci sarà una forma di tassazione per scoraggiare l'uso della plastica inquinante e che per i muettasi dovrebbe esserci un accorpamento non dal prossimo anno ma dal 2021. Bentornato Gianfranco Pasquino, eccolo. Buongiorno, buongiorno. Allora aspetti che facciamo alzare il volume, se no la sento male e non voglio perdermi neanche una delle sue battute. Allora, le chiedo, ognuno in questa coalizione di maggioranza ha piantato la propria bandierina con questa manovra? Ma sì, sono delle bandierine così così però. Il problema è che una manovra di questo genere dovrebbe piantare la bandierina, qui lo dico come se fosse un leghista che non sono, una bandierina per l'Italia, cioè per rilanciare la crescita. Qua vedo degli aggiustamenti e non mi pare che ci sia granché per la crescita e se non si cresce non ci saranno poi soldi da restribuire e quindi sono leggermente preoccupato. Vedo anche delle scommesse, il recupero delle versioni fiscali, lei prima diceva 7 miliardi, è ambizioso, però l'evasione sembra che sia 100 miliardi, 7 miliardi non è niente di recupero, bisogna trovare delle altre modalità per avere i soldi di coloro che pagano e metterli in carcere non mi pare neanche una buona soluzione perché è meglio farli pagare quando si scoprono, farli pagare multe salate piuttosto che metterli in carcere dove costerebbero ai contributi italiani. O confiscare le proprietà, i beni, come è stato detto. Certo. Ecco, allora, voglio prima di coinvolgere i politici stamattina voglio andare da Alberto Brambilla, che saluto e ringrazio, che è il gran capo del Centro Studi e Ricerche di itinerari previdenziali, un grande esperto non soltanto di previdenza. Allora chiedo anche a Brambilla una prima opinione sull'impianto, diciamo, complessivo della manovra che potrà subire ovviamente modifiche e aggiustamenti in corso d'opera anche perché lo dicevamo, insomma, nel riepilogo che abbiamo fatto dal suo punto di vista quota 100 resta senza modifiche, no, professor Brambilla? Sì, allora, buongiorno a tutti. Intanto, direi che sono intanto totalmente d'accordo con quello che diceva il professor Pasquino. La manovra è fatta per 14,2 miliardi di deficit e quindi è ulteriore, come dire, debito che scarichiamo sulle future generazioni che noi invece a parole tentiamo di recuperare e ci strappiamo magari le vesti perché poi vanno all'estero. Quindi la spesa che noi sosteniamo per interessi è di circa 65 miliardi, la spesa per l'istruzione 45, siamo l'ultimo paese nel mix istruzione debito pubblico per efficacia. Per quanto riguarda l'evasione, il recupero dell'evasione fiscale non credo che con questa manovra lo si possa fare e però mi piacerebbe poi approfondire magari in seconda battuta il perché ci sono delle altre opzioni che possono essere più efficaci. Per quanto riguarda il cuneo fiscale anche qui dovremmo pensare a qualche altra iniziativa e per quanto riguarda quota 100 sono d'accordo che non si possa cancellare per il 2020 perché creeremmo all'incirca tra gli 8 e i 10 mila potenziali esodati e quindi rientreremmo nel grande circo Barnum che abbiamo vissuto in questi anni. Però insomma la legge è provvisoria e quindi bisognerà dire qualche cosa agli italiani un po' prima del 2021, cioè cercare di dire a chi andrà in pensione come potrà farlo, quando potrà farlo e in che misura. Adesso poi tra poco entriamo anche nel merito di una proposta che lei ha fatto di quota 103 adesso ne parliamo, facciamo così, andiamo subito da un esponente di questa maggioranza da Matteo Colaninno che è nella nuova forza politica di Matteo Renzi Italia Viva c'è stata un po' di maretta prima su quota 100 nei giorni scorsi voi volevate l'abolizione di questa misura targata governo gialloverdi, diciamo conte 1 credo che anche sul tetto dei 3 mila euro all'uso del contante ci sia stata una trattativa e quindi se la legislatura andrà a fine naturale nell'arco di questa legislatura si passerà dal 3 mila ai mille euro questo per semplificare. Che cos'altro non vi piace? Partiamo da qui di questa manovra? Tanto io partirei dal positivo poi le dico dal negativo Il punto primo è che questa manovra, va detto a chi ci ascolta, ai cittadini fa sì che l'IVA non aumenti e questo Italia Viva, Renzi lo hanno detto fin dall'inizio della nascita di questo governo anzi una delle ragioni per cui ci siamo spinti per fare nascere questo governo era proprio per impedire l'aumento dell'IVA che sarebbe stato molto negativo in particolare in un momento in cui l'economia dopo il governo precedente era scivolata a zero cioè l'economia era in stagnazione mettere un aumento dell'IVA sui consumi in questa fase sarebbe stato praticamente l'anticamera di una nuova recessione quindi sarebbe stato molto negativo e questo è stato scongiurato questo è stato scongiurato e noi ci rallegriamo veramente per questo importante obiettivo che avevamo posto il secondo aspetto molto positivo riguarda il Family Act e cioè che oltre alla conferma e lo ha detto il ministro Qualtieri in conferenza stampa delle risorse già previste precedentemente per le famiglie sono state aggiunte a quanto ammontano queste risorse previste? quelle che sono state aggiunte ieri sera sono 600 milioni sono 600 milioni chieste dal nostro ministro Bonetti di Italia Viva che andranno a finanziare gli asili nido sostegno alle famiglie e congedo parentale quindi è un primo embrione però importante di Family Act per quanto riguarda le criticità ovviamente noi siamo in maggioranza e quindi non faremo le barricate avevamo detto aboliamo quota 100 che nel triennio costa 20 miliardi e questo utilizziamolo per diminuire le tasse sul lavoro utilizziamoli per abbassare le tasse per diminuire in generale quindi evitare per esempio l'aumento di tasse su merendine accise, plastiche eccetera tutta una serie di balzelli che comunque danno fastidio ma in più perché quota 100 va detto che è una misura oggi temporanea perché nel 2021 scade, si poi ce lo spiega Brambilla che è un esperto scade, finisce crea comunque dell'iniquità tra i lavoratori perché non distingue per esempio tra chi ha avuto un lavoro usurante pesante tutta la vita e da chi no e poi è iniqua perché funziona fino al 31-12 del 2021 dal giorno dopo quota 100 non c'è più sì, ricordiamolo sempre che è come dire è un'azione facoltativa temporanea e in più non è nemmeno quota 100 perché 60 più 40 non funziona e sarebbe 100 servono comunque 62 anni e 38 quindi noi avremmo utilizzato queste risorse che ripeto sono 20 miliardi più di 20 miliardi nel triennio per aiutare l'economia diciamo questa è la la misura che meno vi piace che è rimasta mettiamola così aspetta, aspetta, aspetta di corrennino tanto adesso leggiamo nel dettaglio grazie voglio salutare altri nostri due ospiti perché tra pochi secondi dobbiamo tassativamente andare in pubblicità allora saluto collegato con noi da Bruxelles Antonio Maria Rinaldi del Parlamento della Lega professor Rinaldi buongiorno 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 a tutti grazie sa se è arrivata la mail del governo a Bruxelles è vero che lei fa parte dell'opposizione dice a mezzanotte è arrivata la PEC beh dovrebbe essere arrivata non so se già l'hanno letta ma insomma dovrebbe essere arrivata va bene vedremo saluto qui con noi a Roma l'onorevole Andrea Mandelli Forza Italia buongiorno Forza Italia che parla di stato etico di polizia fiscale no mi pare non vado lontano dalle dichiarazioni di queste ore ci vediamo tra pochissimo dopo la pubblicità Allora prima aveva fatto una battuta al professor Rinaldi adesso al di là della mail della PEC è arrivata letta o meno dalla Commissione Europea Allora professor Rinaldi che cosa pensa di questa manovra eh? Beh innanzitutto basta una parola per definire la manovra cioè è salvo intese il che significa tutto e niente che cosa vuol dire salvo intese perché è stata delineata a grandi linee una manovra poi bisogna vedere come ho detto salvo intese magari viene a stravolta e poi c'è il passaggio chiaramente in Parlamento abbiamo visto che ci sono delle anime un pochino diverse nell'attuale maggioranza e quindi è possibile che venga completamente rivista e stravolta quindi siamo qui a vedere una cosa certa che vorrei sapere perché non l'ho letto non l'ho sentito ma probabilmente è colpa mia e per carità se qualcuno me lo può dire lo ringrazio che tipo di deficit con questo tipo di manovra l'attuale governo intende diciamo presentarla cioè non ho visto numeri in relazione al deficit presumo che questo deficit sia superiore rispetto a quello che la manovra dell'altrana 2,04 ha creato tanto scandalo diciamo in Europa se qualcuno mi sa dare qualche numero allora aspetti adesso vediamo di rispondere alla sua domanda vediamo se tra il professor Brambilla con la Ninno o chi altri vuole rispondere io vado a memoria ma credo di aver capito che siamo intorno al 2,2% non vorrei sbagliarmi confermo ma questo però Rinaldi lo sa benissimo e dice giustamente dal suo punto di vista c'è stato l'ira di Dio l'altra volta quando c'era il governo giallo-verde oggi invece tutto è più soft i toni sono light l'Europa è pronta a concederci 14 passa miliardi di flessibilità perché l'Europa non voleva Salvini no? è così è così diciamocelo chiare e tondo lo chiedo a Mandelli è questo? ma innanzitutto vorrei riportare un po' il film a un anno fa il balcone i ministri trionfanti sarà l'anno meraviglioso ci disse Conte l'FMI ieri ha certificato che l'anno tanto meraviglioso non è stato perché è crescita a zero quindi ridiamo anche la credibilità a un premier che ci ha già venduto una scatola vuota l'anno magnifico gli italiani l'hanno giudicato l'FMI ci condanna a fanarino di coda del mondo come crescita a 0.0 l'anno prossimo lasciamo perdere perché i decimali non hanno fatto mai bene e portato fortuna a nessuno quello che è certo è che non ci aspettiamo niente di nuovo da una manovra che di fatto non riesce a dare uno shock fiscale al paese che è a zero quest'anno a zero l'anno prossimo confonde ancora le acque ai cittadini chi pensava di andare con la quota a 100 giusto o sbagliato che sia dovrà navigare a vista per capire cosa succede abbiamo imbrogliato chi aveva puntato sul regime forfettario le lo leviamo e quindi ancora qua un paese che non riesce a dare una linea di continuità ai propri cittadini è un paese che è misero i 5 stelle che hanno sostenuto il regime forfettario quest'anno lo affossano cioè giri di capovolte di qualsiasi dittatura pur di rimanere al governo però non c'è una linea il paese è langue io penso che mettere un po' di tasse sulla plastica fa bene fa benissimo dobbiamo farlo ma non cambierà le sorti del paese la solita legge sulle manette che terrorizzera tutti abbassiamo un po' il contante come se il contante in Europa non è che siamo fuori dalle norme siamo esattamente in linea con l'Europa non è che cambierà l'evasione fiscale insomma io credo che siamo di fronte a una nuova scatola vuota che non farà che peggiorare i conti del paese siamo in una manovra competente dal suo punto di vista lo scenario è tutt'altro che confortante insomma la povertà non l'abbiamo sconfitta no? no questo è sotto gli occhi di tutti al di là delle dichiarazioni prima di tornare al professor Brambilla voglio chiedere una cosa a Rinaldi ma c'è una cosa di quelle che ha visto rispetto alle anticipazioni che insomma dal suo punto di vista dice beh questa non è male eh Rinaldi beh non è male che lasciano quota 100 anche perché Brambilla ha detto una cosa molto sacrosanta ha detto gli italiani hanno bisogno di certezze e quando si fa una norma che prevede certe cose e quindi i cittadini pianificano anche per il proprio futuro poi arriva un altro governo che sconvolge completamente tutto insomma questo è sicuramente un disagio per i cittadini quindi ha perfettamente ragione nel dire gli italiani hanno bisogno di certezza giustizio quindi se lasciano quota 100 va benissimo però vorrei dire una cosa se questo governo crede di poter contrastare l'azione del diciamo del nero dell'evasione fiscale limitando il contanto a 1000 euro io la vedo un po' diciamo strana perché vedete nell'Unione Europea esistono dei paesi faccio nome e cognome il Lussemburgo che fra evasione e illusione sottrae più di 1000 miliardi agli altri paesi compresa naturalmente l'Italia ora lì bisognerebbe fare qualche cosa non è che riducendo il contante da 3000 a 2000 e poi a 1000 si riesce a risolvere questo tipo di problema ecco credo che alla fine poi chi è che andrà di penalizzata sarà il commercio perché vedete gli italiani vogliono pagare le tasse ma vogliono pagare almeno le tasse giuste non essere passati da uno Stato e mi sembra che questa manovra alla fine tutte le risorse le vada a prendere sulla lotta all'evasione e lotta all'evasione significa di fatto passare i piccoli questa è la verità posso vorrei replicare posso prima della replica dare un dato posso prima della replica dare un dato appena arrivato dall'Istat che è sconfortante per l'Italia ad agosto il dato riguarda l'agosto di quest'anno riguarda l'industria calo del fatturato del 2,2% su base annua e crollo degli ordinativi del 10% questo è un caporetto per l'industria da questi dati siccome Golanino è anche un imprenditore oltre che un politico volevo dare un ingrediente in più ai noi nella discussione di oggi e poi sì questo glielo dico immediatamente poi volevo riprendere anche le parole dell'amico Rinaldi sì le industrie hanno bisogno di poter fatturare di poter espandere il proprio valore della produzione di poter quindi investire e quindi di assumere di tenere mercati e clienti in una fase molto dura anche sui mercati internazionali è una fase durissima le tante tensioni anche che conosciamo i Daxi ma poi anche perché la concorrenza è spietata durissima a partire dal settore dell'auto quindi è per questo che dicevo anche siccome quota 100 sono 20 miliardi di euro che è una cifra enorme rispetto agli spazi di bilancio che abbiamo io li avrei noi Italia Viva li avremmo messi siccome quota 100 finisce nel 2021 ti avrei già messi per aiutare detassando mettendo più soldi in tasca ai lavoratori e facendo pagare di meno il costo del lavoro delle imprese e incentivando le imprese sul livello della innovazione tecnologica anzitutto per espandere e per crescere per far sì che questi dati che lei ha appena letto possano venire contrastati da una strategia diversa di politica economica dico questo perché ha ragione Rinaldi quando dice noi non possiamo continuamente modificare le questioni che riguardano la previdenza anche perché il patto tra i cittadini vorrei dire questo che quota 100 anzitutto scade quindi già di per sé è temporale era sì sperimentale secondo riguarda un numero molto limitato di soggetti perché non va oltre 200.000 persone mentre quando eravamo al governo con Matteo Renzi abbiamo fatto gli 80 euro che sono 1000 euro l'anno per 10 milioni di persone quindi il termine di paragone è 10 milioni contro 200.000 allora bisogna mettere sulla bilancia quanto spendi che sono 20 miliardi per un blocco assolutamente circoscritto se può non trascurare le risorse benefici che ne derivano per quanto riguarda il tema dell'evasione fiscale noi la pensiamo in questo modo non è attraverso poi siamo in maggioranza quindi non faremo barricate la questione del contante perché se uno guarda gli Stati Uniti la Germania altri paesi dell'Europa il tema è diverso allora che cosa noi possiamo già dimostrare e mettere sul tavolo quando al governo Matteo Renzi mise la fatturazione elettronica e anche lì c'è stato oddio cosa fate non cosa fate allora intanto già nel 2019 questo tipo di strumento che non è assolutamente invasivo non è stato di polizia non è nulla già per il 2019 è in grado di produrre queste sono le stime già tra i 3 e i 4 miliardi di euro in più quindi dico vabbè cioè è un bel ascito che avete fatto diciamo attraverso questo tipo di strumentazione non con l'invasività o con lo stato di polizia che tu contrasti e secondo per utilizzare maggiormente le carte di credito piuttosto del contante non è la logica punitiva quanto piuttosto un sistema di incentivazione prima di tutto abbassando le commissioni bancarie per chi usa per chi usa per chi usa il banco ma delle carte di credito sì poi voglio dire anche perché poi facciamo dei ragionamenti sulla base di dati concreti perché si è parlato tanto di commissioni l'artigiano il commerciante dice però c'è il problema delle commissioni ma si può portare in detrazione le commissioni cioè non è che vabbè insomma questo è un altro discorso torno dal professor Brambilla perché vorrei chiedere al professor Brambilla intanto dal suo punto di vista perché quota 100 si è rivelata meno attrattiva rispetto alle previsioni intanto beh allora diciamo che quota 100 è stata una risposta a una riforma a Monti Fornero che ha inrigidito talmente tanto il sistema pensionistico che da allora dall'1-1 del 2012 ci sono state 8 praticamente sanatorie che hanno coinvolto più o meno 180 mila persone è stata fatta l'ape sociale perché non si poteva fare la nona salvaguardia e poi sono state fatte altre opzioni tutto questo dimostra ed è proprio plastico che la riforma ha funzionato dal punto di vista della cassa ma ha inrigidito un sistema e non ha paragoni all'estero quindi l'obiettivo di quota 100 era introdurre flessibilità la manovra è stata fatta in via provvisoria quindi per un tempo limitato di tre anni occorrerà quindi sicuramente dire oggi cosa succederà l'1-1 del 2022 e questo andrebbe detto dal mio punto di vista già nel corso dei primi mesi del 2020 per non tenere la gente sospesa assolutamente dopodiché perché ha come dire attratto pochi rispetto a quello di perché noi dobbiamo tenere conto che a partire dal mese di ottobre di quest'anno e ancora di più nel 2020 ancora di più nel 2021 la stragrande maggioranza dei potenziali quota 100 sono i cosiddetti misti cioè coloro che hanno tra il 60 e il 65% della pensione calcolata col metodo contributivo anticipare di 5 anni significa avere una diciamo una riduzione è un calcolo attuariale non è una penalizzazione ma di circa il 10% per cui la gente dice se io oggi lavoro prendo 100 se vado in pensione con la pensione normale prendo 70 71 se vado con quota 100 prendo 63 e quindi stante la situazione economica che come avete detto non è delle migliori è evidente che la gente probabilmente è meno attratta ecco devo dire anche che la risposta di Ape Social di Opzione Donne eccetera è una risposta che andava bene per un anno ma nei paesi normali esiste un terzo pilastro che è un welfare diciamo di sostegno a reddito che noi in Italia abbiamo già e che funziona benissimo dall'anno 2000 cioè noi dall'anno 2000 abbiamo concesso 5 anni di anticipo rispetto all'età di pensione mediante i fondi esuberi e quindi poste assicurazioni banche hanno mandato in prepensionamento ma non a carico dello Stato perché lo Stato non è costato una lira ma a carico del sistema oltre 80.000 persone quindi Ape Social l'opzione Donne e tutte le altre cose vanno sostituite con questo moderno strumento Allora chiarissimo io adesso devo tornare al Presidente ma faccio un passaggio rapidissimo con Rinaldi perché caro Rinaldi un altro dei cavalli di battaglia di quota 100 era questo permetterà un ricambio mettiamola così generazionale per quanto riguarda i posti di lavoro la sostituzione i più ottimisti dicevano esce una persona ne entrano addirittura tre quello che abbiamo capito che dal punto di vista dei privati non c'è stato un grandissimo ricambio anzi molto poco nel settore pubblico ovviamente questo è più semplice anche se sono andati via molti lavoratori e ancora non sono stati rimpiazzati perché insomma c'è un problema di concorsi c'è un problema di adeguamento e allora magari nella sanità vanno via un sacco di medici e di infermieri e non vengono rimpiazzati e questo è un punto di criticità di fragilità di quota 100 o no Professor Rinaldi? ah sicuramente però bisogna anche considerare che negli ultimi mesi negli ultimi trimestri c'è stata una contrazione mondiale europea piuttosto notevole dell'economia prima si diceva alle industrie italiane le industrie italiane sappiamo benissimo che hanno una dipendenza con quella tedesca in particolare della componentistica estremamente elevata quindi è una crisi che ha colpito ad esempio il campo automobilistico ne è seguita di conseguenza purtroppo anche una in Italia quindi bisogna anche tener conto di questi fattori che sono estremamente importanti anzi a maggior ragione con situazioni di contrazione dell'economia non solo in Italia come ho detto ma anche a livello continentale sarebbe il caso di fare ancora di più delle politiche espansive mentre invece mi sembra che questo tipo di manovra almeno da quello che si legge dai giornali non lo sia assolutamente espansiva quindi non si è voluto contrastare d'altronde come ho sempre detto questa volta c'è un governo con diciamo la benedizione con le simpatie dell'Unione Europea dell'attuale commissione perché non sappiamo se poi finirà effettivamente il 31 di ottobre e anche sicuramente della futura commissione della signora Ursula van der Leyen quindi avrebbe potuto osare sicuramente di più mentre invece insomma mi sembra che non l'abbia fatto cioè non ha sfruttato questa occasione visto e considerato che il Presidente del Governo siccome c'era dentro la Lega che erano sporchi brutti e cattivi e quindi non avendo diciamo il gradimento qui dell'Unione quindi erano pronti tutti col fucile a sparare addosso allora fucile attestativa riparto da Pasquino ho bisogno di fare a Pasquino una domanda ancora su questa discussione che riguarda la politica economica del Governo però ripartiamo dal duello tra i due Matteo ieri sera nel ring di porta a porta Matteo Salvini e Matteo Renzi si sono sfidati insomma era cominciato col fair play poi insomma se ne sono detti di tutti i colori lo vediamo dopo la pubblicità sono contento di aver fatto un anno di governo perché ho dimostrato agli italiani che volere è potere il colpo di sole del papete che ha preso il collega Salvini è evidente che lo fa rosicare ancora adesso il punto è che Salvini ha fatto una cosa che non aveva né capo né coda perché l'8 di agosto si è messo in testa di portare il paese a votare in pieno ferragosto lì avevamo due alternative la prima era accettare il diktat del papete siamo andati in Parlamento e l'abbiamo messo in minoranza perché l'alternativa era quella la seconda di fare un'operazione sì un'operazione di palazzo sì un'operazione macchiavellica lo riconosco io io non lo volevo fare l'accordo con il governo con i 5 stelle quando sono dovuto passare lì e dire sì alla fiducia ho sofferto ho capito che è un reato andare in spiaggia col proprio figlio nel senso che a Milano Marittima succedono gli atti più incredibili nel mondo probabilmente a sinistra sono abituati caviale, champagne e Monte Carlo io sono molto più sempliciotto vado in vacanza in Italia per tenere i soldi degli italiani in Italia mai mi permetterei di giudicare le ferie con figlio, figlia e famiglia perché qualcuno ha fatto polemica anche su quello lei però su questo avrebbe avuto avrebbe fatto migliore figura se il 30 luglio il 31 luglio il primo agosto quando era in ferie a Milano Marittima non si fosse messo in missione al Senato i ministri sono sempre in missione no io ho apprezzato molto di più quelli del PD e quelli dei 5 stelle che hanno detto compresa la Boschi stiamo insieme anche se non andiamo d'accordo su niente per non andare a votare se no vince la Lega non si va avanti a colpi di gomitate in faccia a Macron e alla Merkel c'è un paese da governare insieme agli alleati europei sì io ho l'ambizione che l'Italia sia un paese sovrano che noi non dobbiamo prendere ordini da Parigi da Berlino da Bruxelles primo punto le riunioni che si fanno a livello istituzionale sono importanti lei non ci va mai i casi sono due o gli italiani sono cretini non ho fatto niente non vado alle riunioni mangio come un bufalo e gli italiani mi danno il 33% o sono tutti rimbambiti o evidentemente è un genio incompreso ha fatto tutto e gli italiani non lo capiscono penso che scemi sti italiani ha tagliato le tasse ha assunto poliziotti ha fatto accordi internazionali ha sconfitto la fame nel mondo ha portato la pace nel mondo la crescita dei capelli e gli italiani non se ne sono accorti ma rispetto a me lei è una banderuola lei non ha tenuto non tiene la farola per più di un minuto ma lei viene a dire a me lei che sull'euro si è io guardi ne ho portato solo una lo riconosce questo signore è lei basta euro mi spiace che Renzi sia rimasto al passato io sono proiettato al futuro l'unica cosa che siete riusciti a fare è smontare dei pezzetti di quello che abbiamo fatto noi in un anno non è quello di cui l'Italia ha bisogno ma i soldi li ha presi o no Salvini sulla bestia quindi io le faccio una domanda precisa perché gliel'ho fatta in Parlamento e non mi ha risposto siccome lei è così gentile ma noi stiamo usando i soldi che ci stanno dando gli italiani spontaneamente liberamente anche lui se venisse fuori che quei soldi sono stati spesi dalla Lega con lei segretario lei avrebbe mentito ma guardi ma io sbaglio decine di volte al giorno io rispondo di quello che fa la Lega da che sono segretario di dicembre 2013 ad oggi con altri soldi con altri amministratori con altri finanziamenti tutto verificato e tracciato punto Allora Messor Pasquino chi ha vinto e chi ha perso dal suo punto di vista intanto lei ha seguito il faccia a faccia o no o magari ha visto una fiction oppure che ne so ha seguito qui sulla nostra rete di martedì che era molto interessante Guardi c'era il traino della partita della nazionale in realtà io ero andato a vedere la partita di basket della Virtus Bologna che ha stravinto poi sono tornato e mi sono guardato un pezzo non tutto sono da ammirare coloro che sono arrivati fino alla fine Lei l'ha vista a dosi omeopatiche diciamo l'ha seguito Esatto entro certi limiti come si dice non bisogna esagerare anche perché francamente il punto fondamentale non so chi ha vinto e chi ha perso so chi in questo momento naturalmente sta vincendo e so chi sta perdendo e forse si sta un po' rodendo il fegato sta vincendo Lorenzi che ha acquisito un grande potere su questo governo grazie ai suoi ministri e grazie ai suoi parlamentari Matteo Colaninno compreso e sta perdendo in qualche modo o comunque si sta un po' rodendo il fegato Salvini che ha commesso un errore clamoroso a agosto la può girare in tutte le maniere che vuole però lei sicuramente ha sbagliato so che nell'uno nell'altro ha fornito informazioni utili all'elettore per orientarsi e so forse che sarebbe meglio quando ci sono questi dibattiti che ci fosse una sorta di fact checking cioè di controllo su quello che dicono per esempio io non so se come ha detto Salvini i ministri sono sempre in missione questo non lo so e non so se tutte le cose che buone che sono successe nel periodo di Renzi che lui vanta siano state davvero così buone sono un po' perplesso perché allora avrebbe ragione Salvini che potrebbe dire ma gli italiani sono rimbambiti perché non hanno capito che Renzi ha fatto delle cose straordinarie e poi ha perso clamorosamente le elezioni e credo che si potrebbe migliorare questo tipo di dibattiti e mi auguro che ci saranno altri magari tra i protagonisti perché in questo caso Renzi e Salvini non sono i due protagonisti attuali della politica italiana tra protagonisti che cosa intende tra Di Maio con il Premier Conte con chi con Zingaretti io credo che il Premier Conte dovrebbe essere uno dei due protagonisti e poi e poi probabilmente bisognerebbe che ci fosse uno del PD che spieghi perché ancora questa cosa la devono spiegare perché hanno deciso di fare l'alleanza con i 5 Stelle un anno dopo cioè hanno capito solo un anno dopo che un governo con Salvini era tra virgolette pericoloso comunque quello che non serve agli italiani l'unico punto sul quale credo forse Vespa doveva intervenire cioè perché il passaggio vero è che cosa ci stiamo a fare in Europa e come stiamo in Europa Salvini in realtà ha continuato nella sua campagna sovranista ma non ho sentito da Renzi delle parole davvero europeiste come sarebbero necessarie perché questo è il versante sul quale si combatteranno le prossime elezioni sicuramente allora due cose voglio dire intanto che Salvini ha sfidato Conte il premio dicendo mi piacerebbe un faccia a faccia con lui dopo quello che si sono detti reciprocamente poi per buona pace lo dico con un pizzico di ironia del professor Rinaldi è appena arrivata la notizia che la commissione europea ha appena ricevuto il documento programmatico di bilancio dal governo italiano io vorrei sulla sfida tra i due Matteo un parere da Andrea Mandelli perché intanto Forza Italia è in coalizione in qualche modo sarà in coalizione c'è un'alleanza c'è stata vedremo come cambierà con la Lega di Salvini e poi è stata alleata nel patto del Nazerino con Matteo Renzi mettiamola così ha seguito il dibattito? No le dico la verità ne ho seguito un pezzo poi anch'io si è addormentato però io credo che l'Italia che questa mattina è andata a lavorare insomma cerca qualcosa di diverso di un dibattito televisivo noi ieri abbiamo proposto di mettere in costituzione il 33% massimo di tetto delle tasse stiamo cioè in costituzione un comma che dice non si può andare oltre il 33% della questione rischia queste sono le cose che interessano ai cittadini questi dibattiti secondo me sono fatti più per noi che per la gente che questa mattina sta lavorando da due ore tre ore certo e dice lei è poco interessata il problema è che l'Italia è ferma questa manovra non dà una scossa nessuno cerca di fare qualcosa agli italiani io dico andate a votare alle regionali dateci una mano a ribaltare questo governo cerchiamo di tutti insieme dare una via a questo paese perché in questa legge di bilancio che verrà questo documento che ha fatto a Bruxelles non c'è niente che possa cambiare la vita ai cittadini anzi in daspranicità se le manette nessun provvedimento strutturale insomma noi abbiamo bisogno di un cambiamento con questa legge non si va da nessuna parte più che i dibattiti facciamo i fatti concreti allora facciamo una che fra poco ci sarà sotto corona con il meteo una regola di ingaggio per Colaninno e per Rinaldi che sono parti in causa uno con Renzi e uno con Salvini proprio un minuto di battuta ha seguito le è piaciuto Renzi non le è piaciuto è stato più efficace in cosa Colaninno? mi è piaciuto è stato un bellissimo confronto un bellissimo match certamente sono i due leader oggi in campo in termini di capacità di leadership e di carisma per mio giudizio è che Renzi abbia nettamente vinto il confronto l'ho visto molto efficace molto veloce molto reattivo entrato nel merito delle questioni cioè quindi i problemi delle persone ha parlato di quota 100 che l'IVA non è aumentata grazie a Italia Viva ha incalzato molto Salvini su questioni dove Salvini l'ho visto molto in difficoltà buttando la palla in tribuna cioè incalzandolo hai speso non hai speso questi 49 milioni e poi il grande tema di quello che è accaduto quest'estate cioè al papete dove chiaramente Salvini ha buttato per aria il governo di cui ormai era il Dominus e Renzi da grande leader ha preso in mano la situazione con questa mossa spregiudicata e ha fatto nascere questo governo e quindi ho visto la faccia di Salvini in tante situazioni in grande difficoltà in barazzo sentiamo Rinaldi Rinaldi allora ha visto un altro film Rinaldi forse io ho visto un altro se vede che qui in streaming ne davano un altro perché Salvini non ha vita stravinto ma di brutto pure poi e poi lasciamo giudicare i cittadini italiani che pensano penso sicuramente siano molto ma molto più intelligenti di tutti quanti poi volevo rispondere al discorso del 33% da inserire in Costituzione certo è una cosa meravigliosa però prima di fare una proposta del genere bisognerebbe abolire completamente cancellare l'articolo 81 della Costituzione che prevede di fatto l'introduzione del principio del pareggio di bilan altrimenti non è possibile mettere nessun tipo di tetto o di livello dell'imposizione fiscale quindi togliamo prima l'articolo 81 sono due discorsi completamente diversi che viaggiano su discorsi paralleli un conto è il tetto massimo di tassazione un conto è sostenere i conti dello Stato ma non sono due cose che possiamo mettere sullo stesso piano sono due cose che vanno su piani diversi non facciamo un po' di confusione un conto è il tetto massimo scusi se permette no la sta facendo lei perché dove le prende le risorse sotto l'albero lo prende come il gatto alla volpa scusi e quindi per parquattare i conti dobbiamo alzare le tasse io dico di no io dico di no lo Stato deve fare spendire il review deve mettere in campo tutte le menove per evitare lei sa che lei sa che cos'è Ameco è il database dell'Unione Europea quindi non è che di parte dovrebbe essere super parte lo sa che l'Italia è fra i paesi che come spesa primaria cioè al netto di interesse spende meno della media europea lei lo sa questo lei vuole tagliare ancora di più certo e quindi dobbiamo minare le tasse io dico di no allora noi possiamo abbassare io dico di no noi possiamo abbassare esatto quindi lei vuole abbassare ancora il livello rispetto agli altri paesi della spesa quindi per esempio c'è una flat tax invece che andare a sassare come stessiamo con la flat tax mi trovate d'accordo scusate Mandelli e Rinaldi vi blocco un attimo lo riprendiamo il discorso anche perché voglio sapere che ne pensa il professor Brambilla di questa proposta intanto saluto Paolo Sottocorona è tornato il sereno un po' su tutta Italia o no? no non lo so l'Italia è lunga per cui da punto di vista meteorologico diciamo che anche qui ci sono zone di sereno come vedete zone in cui ancora un po' di nuvolosità c'è però niente a che vedere col maltempo di ieri che si è ormai allontanato c'è però al sud ancora da questa mattina qualche temporale in Calabria si dovrebbe attenuare anche questo infatti le piogge previste per la prima parte della giornata di oggi vedono qualche pioggia sul nord est essenzialmente i friuli Venezia Giulia un poco sul Trentino ma il verde sono piccolissime quantità e poi vedete ancora questa zona del basso tirreno e la Calabria con indicata qualche pioggia un po' più consistente c'era anche qualche temporale quindi diciamo che ci siamo nella seconda parte della giornata queste piogge residue scompaiono quasi del tutto restano molto deboli il grigio di qualche nuvola ma insomma la giornata è tutto sommato piuttosto buona vediamo gli sviluppi la giornata di domani ricompare qualche pioggia debole sulle zone alpine in parte in Liguria al centro e al sud molto poco a parte forse le zone interne della Calabria ancora una volta venerdì c'è qualche pioggia in più questo insomma suona un po' male all'orecchio perché poi ci avviciniamo al fine settimana e vedete che insomma qualche pioggia al nord c'è sulla Francia c'è qualche precipitazione più intensa non è detto che necessariamente debba passare sabato sull'Italia però insomma come dicevo così questa mattina la porta è aperta la porta di nord ovest quindi qualcosa potrebbe entrare la foto di oggi è un po' particolare non tanto per i lampioni che ormai la gente mi manda le foto perché sa che mi piacciono i lampioni cioè mi piace come stanno nelle foto qui siamo in Grecia il paese Carpathos o Carpathos non lo so e questo dentro la nebbia dentro le nuvole è niente meno che il Monte Olimpo in questa dietro questa nebbia gli dei chissà cosa stanno complottando allora ci lasciamo con questo interrogativo grazie a Paolo Sottocorona qualche minuto e torniamo a proposito anche della proposta fatta da Forza Italia tetto massimo del 33% per quanto riguarda le tasse da mettere da inserire in Costituzione tra poco allora due domande due risposte al professor Brambilla la prima sulla proposta di Forza Italia che ne pensa di questo 33% massimo di tasse insomma diciamo che la situazione delle dichiarazioni fiscali italiane è piuttosto come dire claudicante mettiamola così nella nostra ultima ricerca nei fatti che cosa abbiamo scoperto abbiamo scoperto che noi abbiamo circa 41 milioni di contribuenti quelli che fanno la dichiarazione quelli che pagano almeno un euro sono meno di 30 milioni ma per dirla in soldoni quelli che dichiarano più di 100 mila euro lordi l'anno lordi sono circa 500 mila persone e debbo dire che il 4% di tutti i contribuenti paga il 30 il 12 paga il 60 e all'incirca un 25% paga il 95% quindi che cosa vuol dire tutto questo vuol dire che noi dobbiamo avere immagine di un paese dobbiamo avere in mente un paese e fare le riforme fiscali non a pezzettini cioè uno dei drammi del nostro paese anche per la famiglia per le pensioni è che ogni governo che arriva ci mette un pezzettino di più la mia domanda per esempio è ma sulla famiglia sapete esattamente che cosa spendiamo tra assegni al nucleo familiare su sì di vari eccetera allora non è forse meglio mettersi un attimo a tavolino evitare tutti questi annunci e fare dei progetti che siano come dire consapevoli e costruttivi questo secondo me è il modo devo dire che però e chiudo c'è un grosso problema lo ho evidenziato la scorsa settimana in un articolo sul sul Corriere noi abbiamo un'elezione ogni tre mesi una regione e questo qui è una campagna elettorale che non può dare un disegno una idea di un paese un progetto a cinque anni almeno ma è sempre un annuncio e una battaglia ogni cinque minuti sì lei ha fatto un richiamo al buonsenso sacrosanto quando dice mettersi insieme intorno a un tavolo facciamo le cose poi facciamo gli annunci che ci porta poi a una domanda cioè ma come dire quello che serve al paese in questo caso la manovra cioè questa manovra serve al paese o serve ai partiti che governano il paese no perché c'è una bella differenza no con la nino è questa no la differenza io sto seguendo il ragionamento che faceva sto seguendo anch'io che faceva Brambilla posso però in un flash a Brambilla che deve andare via professor Brambilla solo una battuta per i giovani per i giovani che c'è non c'è niente e per i giovani ci sarebbe da modificare la riforma Fornero perché teniamo conto che la riforma Fornero ha diviso in due la popolazione tutti i retributivi e i contributivi cioè tutti noi e tutti quelli che hanno cominciato a lavorare dall'1-1 del 96 questi ragazzi qui uno non avranno le integrazioni al minimo quindi se hanno versato poco prendono poco e integrazione al minimo e maggiorazioni sociali ne beneficiano oggi quasi 5 milioni di persone su 16 milioni di pensionati due per andare in pensione debbono avere almeno 2,8 volte l'importo dell'assegno sociale tradotto 1300 euro ma 1300 euro lo stipendio che hanno oggi quindi l'invito che faccio alla politica è guardate bene siccome dovete rimodulare quota 100 perché scade per via naturale nel 2021 fate conto anche su questo perché una delle cose più sbagliate della Monti Fornero è aver diviso in due la popolazione avere messo i giovani che peraltro sono quelli che stanno pagando i contributi degli attuali pensionati nella condizione di andare in pensione a 71 anni non sta bene nella condizione di prendere la pensione che avranno non sta bene dobbiamo trattare tutte le generazioni almeno in modo uguale grazie allora professore Bambini buon lavoro grazie a voi battuta da Colaninno e poi devo andare da Rinaldi no perché l'ho vista dicevo la manovra serve alle quattro forze di governo o al paese adesso so lei come mi risponderà e però la domanda va fatta la manovra chiaramente se c'è un'elezione ogni mese se c'è una scadenza elettorale siamo in un'eterna campagna elettorale siamo su un'eterna campagna elettorale e questo è pacifico ma non ci possiamo fare nulla il problema è che noi abbiamo ereditato questa manovra dopo un anno di governo che aveva investito a debito ma io non c'ho niente nel fare gli investimenti a debito ma aveva investito a debito un'enorme quantità di risorse parlo di reddito di cittadinanza e di quota 100 che sono state costosissime e hanno avuto degli impatti sostanzialmente pari a zero sul PIL quindi sull'economia sulla crescita sul vapore che muove l'economia però posso quindi oggi che cosa qual era il bivio che si presentava ad agosto era come lo ha definito Renzi il bivio del papete che probabilmente manteneva lo spread a 250 punti difficoltà nell'ottenere flessibilità in Europa Italia marginalizzata e quindi probabilmente una manovra lacrime e sangue oppure affrontare come abbiamo deciso di fare noi un'altra strada una strada che noi riteniamo più giusta una strada di coalizione chiaramente quando eravamo noi al governo con Renzi noi abbiamo messo 10 miliardi di sicurezza no no perché devo andare a rinanti noi abbiamo tagliato per esempio 6 miliardi e mezzo per esempio sul taglio dell'Ira secondo noi era una cosa molto positiva e che abbiamo fatto qui quello che noi siamo riusciti ad ottenere con quell'eredità di reddito di cittadinanza lei dice più di questo con reddito di cittadinanza di quota 100 noi abbiamo impedito comunque l'aumento dell'IVA che oggi sarebbe stato devastante per l'economia abbiamo certamente chiesto di investire per esempio sulla famiglia l'ho detto in apertura di trasmissione il governo ha già riconosciuto questi 600 milioni aggiuntivi su famiglie asili nido e congedo parentale chiaramente nella prospettiva qual è la nostra meno tasse perché oggi le tasse non possono essere buttate sull'economia e investire le risorse tutte le risorse per l'economia la crescita il lavoro e le imprese e quindi che c'è a zecca il reddito di cittadinanza in tutto questo progetto voglio fare una domanda a Rinaldi fatemela fare che abbiamo pochi minuti chiedo a Rinaldi diciamo con onestà intellettuale ma se lei potesse o tornare indietro o fare un tagliando lo farebbe il reddito di cittadinanza e quota 100 o rivendica con orgoglio entrambi queste due misure Allora i due provvedimenti sono chiaramente due diciamo bandiere delle due precedenti forze che hanno dato vita al governo per quanto riguarda quota 100 ormai è stato stradetto che era ed è una forma volontaria per cercare di correggere ciò che all'inizio aveva creato di disagio la cosiddetta legge Fornero nonostante le otto diciamo revisioni di salvaguardia che erano state fatte nel frattempo ora che cosa dire non credo che le risorse che erano state implicate nel bilancio passato sono state utilizzate tutte perché sappiamo che ha investito soltanto una parte di questo però voglio fare una bellissima provocazione noi sappiamo che negli anni precedenti abbiamo accantonato e poi erogato una parte fra fondi salvastati fra diretti o indiretti aiuti per i paesi in difficoltà diverse decine e decine di miliardi di euro in particolare sono andati alla Grecia in particolare sono andate alla Spagna al Portogallo si legge tutti i giorni i giornali che ad esempio la Spagna è ritornata come si dice in bonus cioè sta andando molto meglio dell'Italia perché non chiediamo indietro ad esempio la quota parte che l'Italia ha dato ad esempio alla Spagna al Portogallo per esempio sono tanti tanti miliardi che sono gravati chiaramente sul debito pubblico quindi sui cittadini italiani potremmo fare altro che quota 100 reddito di cittadinanza potremmo fare veramente delle forti politiche espansive lo dico a chi sbandiera ogni giorno il fatto che la Spagna avendo fatto determinate politiche secondo quanto prevedeva l'Unione Europea addirittura ha un PIL in netto vantaggio rispetto all'Italia sì ci sono riusciti però pure con i soldi nostri allora cerchiamo di richiedergli indietro visto che sono in prezzo eppure non vedo nessuno della trova del governo che alza il dito questa potrebbe essere una bella provocazione questo è il lodo Rinaldi diciamola così si tratta di 15-16 miliardi che non sono poca cosa esatto poi vorrei chiedere una cosa Conte è riuscito a trovare dalla mattina alla sera abbiamo trovato i 23 miliardi o le subito per fare disinnascare le clause di salvaguardia per aumentare dell'IVA quando già se le era ritrovate nel cassetto perché già il precedente governo già aveva predisposto tutto affinché a settembre ci fosse il Nadef per poter disinnascarle quindi le ha trovate subito poi però dopo l'eco sui giornali che il ministro dell'economia Gualtieri dice ah ci servono ancora 6-7 miliardi ma si mettessero un po' d'accordo anche perché poi concludo dicendo in maniera anche un po' ironica ieri seguendo Renzi mi è sembrato che Renzi fosse il capo dell'opposizione per quello che diceva mentre invece mi sembra che lui e i suoi votano a favore di questo governo e si in tante cose allora intanto il Conte il premio sta riferendo al Senato perché domani dopo domani c'è il vertice europeo e ha detto il governo che guido all'Unione Europea come pilastro caro Rinaldi se ne faccia una ragione lo dico ironicamente quindi che vuol dire che se tu dici sì all'Unione Europea anche a discapito del paese ti dicono bravo la pacca sulle spalle e va bene se tu alzi il ditino e dici come parte ci si è provato il governo precedente di dire no guardate che queste cose non vanno bene per il mio paese io vengo preso a schiaffoni questo significa? eh non lo so però forse anche questo fatemi andare da Pasquino che voglio chiudere sollecitando il politologo che è Pasquino ma questo accordo adesso questa alleanza al governo tra PD e Movimento 5 Stelle dal suo punto di vista può evolversi adesso al di là delle prime elezioni regionali adesso in Umbria con un candidato comune ha un futuro dal suo punto di vista o no? ma voglio solo permettere una cosa sull'Europa i fondi chiedere soldi indietro cioè sarebbe bene che il governo italiano e le regioni italiane imparassero ad usare fino in fondo i fondi cospicui che l'Europa dà per tutta una serie di attività bisogna guardare più dentro a tutto questo perché ci sono delle inadempienze in capacità di spendere e di investire che sono clamorose no io credo che il governo va avanti nella misura in cui è capace di fare delle cose naturalmente ma credo che sia fuori luogo pensare che un'alleanza di governo creata in condizioni eccezionali debba immediatamente trasformarsi in un'alleanza in tutte le regioni in tutti i comuni italiani e credo anche che sia utile ricordarsi che le regioni hanno problemi diversi fra di loro hanno classi di dirigenti diverse hanno prospettive diverse e lo stesso vale per i comuni cioè di volta in volta si valutano naturalmente le persone si valutano i programmi le prospettive e si decidono eventualmente le eleanze solo un'ultima battuta si vota troppo spesso potrei cavarmela facendo Humphrey Bogart e la democrazia bellezza però che sia chiaro che spesso si vota perché ci sono stati di pasticci in Umbria si vota perché c'è stato un pasticcio cospicuo e quindi a questo solo gli elettori possono porre il rimedio non c'è dubbio non c'è dubbio allora Mirta buongiorno buongiorno noi partiremo ragionando sul fatto politico di ieri ma non siamo sicuri sia l'approvazione della manovra o il duello Renzi Salvini molti ospiti con noi Pietro Senaldi Marcello Sorgi Gennaro Migliore Annalisa Chirico Claudio Velardi e ancora Gerardo Greco Antonello Caporale Massimo Garavaglia Francesco Specchio parleremo di Quotacento con un grande geriatra perché il tema dell'invecchiamento è un grande tema e poi arriverà l'uomo chiave del governo dal punto di vista del PD Dario Franceschini abbiamo tante domande da farvi vi aspetto grazie Mirta dopo la pubblicità c'è la reghetira grazie a Colaninno grazie a Mandelli grazie a voi grazie a Pasquino grazie ad Antonio Maria Rinaldi ci vediamo domani stessa ora stessa rete ricordando a proposito dei due protagonisti del duello che venerdì comincia la Leopolda a Firenze il 19 manifestazione in piazza a Roma Lega Fratelli Italia e Forza Italia e le vedremo delle belle e a fine mese le elezioni grazie fatto il calendario linea alla reghetira grazie grazie a tutti 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 Grazie a tutti.